ciao a te bentornato su persona 3 reload quindi siamo nel tartaro il nostro scopo adesso è quello di arrivare all'ultimo piano di questo blocco e nulla già qua c'è un boss contro avversari resistenti come quasi la teologia può fare meraviglie si può sfruttare subito all'inizio del convertimento per scadere una raffica di attacchi ma è avverti una presenza piena e alti è un piano che non abbiamo ancora visitato speriamo di arrivarci presto ok qua ci sta già un tipetto no media dietro a vitale che tanto ne ho proprio a buttare ed eccovi qua andiamo teurgia fratelli jack piccari male piccati male fateli cadere malissimo e sminchiateli con lol out attack che non gli ha fatto nullissimo teru kaya ok oracolo oracolo perché no piccolo terro della felicità ok boom romaro ma raggio faccio un colpo di fuoco bloccato tutto tutto blocco no nebbia velenosa io mi ho preso tutti ok mago mago di un fai che c'è devo far fare piccchialo male au ma che siete deboli all'oscurità ma tu spesso io vedo esplicità mh mhm purtroppo Vai, picchia di male Ok, pura veleno Su di te Prima che il veleno stesso Ti No, ma ha ragione Porca di quella Perché c'entra lei Picchialo Che vero, vero Possiamo fare una autoattacca in due No, eh Pietra vitale A jumpay, sì Au No 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 Tu li blocchi Picchialo male Mi dispiace per Kiriju Senpai Junpeng Level up Aguilau Wow, mudon Bao, bao Rumoro sembra felice per la vittoria Tutti ti darò un premio, ok Ci tenti, eh Sembra pieno di se stesso Ok Ok Eh, Dio Già che ridicola Già L'hai qui faccio su di me No, che sto facendo Annulla la paura Tra l'altro Questa per Iutari Più avanti Sì A Mitsuru Gli do L'abito Comfortevole E Fuka Prenditi questa Che te le vuoi Di Tra l'altro Ho anche Ho preso un oggetto Agilità 5 Stemma Sperry Generazione 3 Questa è buona Questa vado a te Grumaro Ok Diamo un'occhiata All'armamentario Non c'è niente Le scarpe Mi diventa Uh, da 3 3 talismani Qua da 3 cose Del crepuscolo Ho preso Un pugnale Del carnaio Korochan Kayakorumaru Ok Fatto Finalmente siamo al centesimo piano Un numero assurdo Eppure la fine è ancora lontana Beh, non c'è fretta Continuiamo ad avanzare Siamo al centesimo piano Quindi Ciao A dopo Cioè, tra poco Qualche Qualche Frazione di secondo Ciao Ok Elisabeth mi ha detto Che al piano 72 C'era una Luce blu E c'è un gatto Come un gatto È un sanguele debole Ma c'è Dovete solo Trovarli Farcela a Korochan Per favore Il bastono malissimo Ma come è mancato Per favore Grande Korochan Ok Mi c'è Ok Ok Quanto pare C'è un nemico potente Ma io a te Ti conosco Debole al mazio Ovviamente Sen'un robot 580 Gemma zionga Di nuovo Boom Ok Wow I tuoi HP massimi Aumenteranno Di 10 10 Poi Allora Prendiamo C'è Wof 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 Ma 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 Non è questo Ah forse è da quella parte Ok Sto arrivando Di qua Sì Ci sono punti esclamativi Ok gattino C'è un gatto dall'aria disinvolta C'è un gattino in un posto del genere Comunque dobbiamo proteggerlo Per favore Torno immediatamente all'ingresso Ok Riportiamolo all'entrata Il gatto mi ha offerto qualcosa che teneva in bocca Forse un dono di ringraziamento C'è ancora saliva Ma credo che potrebbe tornarmi comunque utile Frammento del crepuscolo Ma porca di quella Perché il frammento del crepuscolo Va bene Comunque Ciao Wow Ho cambiato Completamente il gruppo Visto che Ho pochissimi oggetti Che recuperi 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 No Gli SP E ho due Stronzissimi davanti Ho preso due pesi massimi Come Aigis E Akihiko Più la curatrice Yukari Andiamo Aria stagnante Porca di quei Ghigno crudele Come hai paura Ma è patra su tutti Funziona? No Maledizione Mazio Niente Un robot che ha paura Ma meno male Ok Tu però Lei ha bisogno di tempo Ti dico cos'è? Niente Ha paura Quindi Chi prendo Potrei prendere Tain Infatti Sei il più forte Ma non hai Attacchi Elementali Sì Ma più forte Sei Tain 126 Eppure Debole Ma già Non posso Perché tutti Gli stronzetti Hanno paura E fare Cosa Ah Picchio tesso Sì Uso Spettrale Delle mie palle Lo munchi Mi si è sacrificato Au Sei guarita? Incredibile Media Media su tutti Ok Mazio Magari Te lo faccio Lo stesso Per provare A vedere Eccolo Lo blocca Ok Ficchiamo Tà Boom Dopodichè Tira Tira un agile Potentissimo Allo stronzo E picchiamo Li entrambi Boom Ok Di nuovo Una volta Una volta Fatti invertita Dovrò Dovrò Ok Picchiamo E di nuovo E di nuovo Da poter continuare a picchiarti male 157 157 Inno crudere Di nuovo Sei paura Sei scemo Sei scemo Sei scemo 30 Vulnerabilità elettrica Al posto di Sakuza Sakuza Siamo Va bene Getterai tu Il ritmo Della missione Ok Non ho voglia di gelato Ma che c'è Ok Forziere Incenso della magia Qua ne vuole due Va bene Te lo posso dare Calzamaglia Isolata Ok Tieni Yukari Perché C'hai sempre Le cosce scoperte Allora Tipaggiamento Vediamo Se magari Posso Contraattacco Chance media Di rispondere Agli attacchi fisici E questo è Perfettissimo Per Akiko Sì Ok Scarpe di sicurezza Portano a 49 Per Akiko Perché no? Nient'altro Nope Bene Al prossimo Boss Allora Ciao Ecco Se vuoi rendere più semplice L'esplosione Usa la mia abilità Rumore angosciante Ah sì L'angoscia Sì Va bene A dopo Ed eccoci qua Che qua c'è un altro Mostriciattolo Non esattamente bellissimo Non esattamente bellissimo Si aspettano altri nemici forti Se volete continuare Preparatevi al meglio Ma questo Sì c'è un piano di confine Tra appena sei piani Ci arriveremo a breve Una volta vinto questo sconto Siete pronti? Non ho capito O ci stanno altri nemici O ci arriveremo a breve Ok Dietra vitale Per Aegis Dovevo un anche a te Yukari Giusto perché sono buonissimo 10 SP 50 SP 100 SP Del tutto SP HP SP Ok Facciamo Teneto 50 70 70 Non va bene Non me lo auguro Anche se questo mostriciattolo Mi mette un pochino di angoscia È un avversario forte È sicuro di essere pronto Prima della battaglia Andiamo All right All right Ci siamo tutti Mi spiace ma passeremo comunque Ok Che sei Debole te Garula Resiste il vento Aria stagnante Ma te pareva Ok Zionga Ma perché C'aveva il Lo zio Lo risucchia Quindi Bufala Proviamo Boom 90 Bufala Sicchiarlo malissimo Con un colpo pulminio 62 Scansionalo male Nulla Prendi colpi da fuoco Che prende E' il problema Però che Spara tutto Quindi niente Piano piano E con calma Ma Dionga Prende la scossa Ma C'è che sei Ok Ok Eh Dio Dio Lo diciamo Ah Pupari Eurgia Mobilità Furia Ok Piccolo male Vai Sailor Moon Il potere del cristallo Di luna 208 No Te invece Devi curare Malissimo Tutti quanti C'è l'occasione Varia Non ho male Teorgia Mi chiamo male 255 Eh non ho con cosa colpirti Ciccio Posso soltanto Prendere la persona Col maggiore attacco Tipo Te Il Gico Kuten E ti chiedi male 135 Non male 103 Resiste pure E Te Continua a curare Perché a lei Debole però Non cade Interessante E' mancato E' alto 7 metri Stacco Strumento Peccato che alla fine Mi fa Resiste Però gli faccio Dannini Eh ma Quasi quasi Una Teorgia Brutta Te la farei Sì è inutile che fai la figona se poi ancora vivo Au Meno male Ok Stacco Quasi 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 Per Crepare Malissimo 61 Stacco Cruento Vai Aegis No Aegis In questa situazione Devi curare Tutti quanti Appreciated Ma Zilonga No Aegis Oh Caspita Vigno Sonico Aegis E' ferma per un turno Makoto E' bloccato Aegis Non può muoversi Almeno te puoi fare qualcosa Tipo curare Peccato che la cura Non è Assolutamente Forte Eeeh 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 Vigno Sonico Di nuovo Boom 58 Zanei Mancato Ma Terracione di stato curata Meno male Colpo col vino Vai Vai Picchialo male La battaglia finita Non ci sono più ombre Perchè Minaccia di alto livello eliminata Qual è la situazione attuale di tutti i membri? Se ti senti stanco consiglio di tornare indietro in anticipo Ah Vassa continuare Davvero magnifique come si suol dire Ora riprendiamo l'esplorazione Ok Quindi Dovrebbe essere qua E infatti Da tre Ti apro Granata Accecante Questa è per Aegis Nuova arma acquistata Sembra essere un miglioramento Propongo di rielaborarla Ok Diamo la Aegis Equipaggiamento superiore Confermato Anticipo un aumento della prestazione in combattimento Che cosa eri tu? Kataccia Boom Certo tre Vabbè Chi se ne frega Del 3% di colpire Qua invece Sì E' sempre 29 Un'armatura sexy Un'armatura sexy Sarà per Makoto? Non credo proprio Per chi sei Armatura sexy Perché non è per Non dirmi che è un uniforme Armatura sexy Per Mitsuru Maga Guardiamola Guardiamola Armatura sexy Poi quando scenderò La controllerò Un nuovo prezioso Questa è ottima Ok Ha detto 6 piani alla fine Andiamo a 6 piani alla fine Ancora un'altra Ok Va bene Sì Devo curare Tuttissimi A dopo Ciao E a quanto pare Siamo arrivati Dopo aver affrontato Una monade Una porta della monade Che era Terribile Con 3 boss Dadi Che lanciavano Robine a ripetizione Ho dovuto Sare anche un Soma Maledetto io Comunque abbiamo fatto Grandi progressi Ottimo lavoro Tornato quando siete pronti Stai a desiderare il video Intanto qua c'è il vecchio libro Vecchio testo Speravo di stare al suo fianco E scioccamento Ho accettato di partecipare Ma la ricerca era incredibile E' giusto fare esperimenti Con queste ombre Non mi dice Nulla Di nulla Di nulla Non possiamo proseguire Oltre sembra che dovremmo Soltanto aspettare Ok Torniamo all'entrata Torniamo indietro Dunque Siamo qui Tanto sono anche a livello 40 Potentissima Elisabeth Dammi qualcosa Tieni il vecchio libro Del 50.000 Ok Esegui l'incantesimo Di fusione Io e il re Del più grande Che Difusione avrei bisogno Di King Frost E del più grande Cattivo Tra tutti Jack Frost Scusami Sto parlando Portami un Outanta Mitsuyu Outenta Sì probabilmente Dovrò farlo Nel Lì nel Coso Lì Negozio Quello bellino Porta ciò che ricevi Pregando Al santuario Cerca la bevanda Con il mio nome E questo Non ho n'idea Di dove andarla A prendere Vorrei provare Della Oyuru Non ho n'idea Di dove sia E poi Ascoltare La diavolo Di Musica Del Come diavolo Ti chiami Ok Bene Tanto usciamo Dal tartaro Ti prego Ho tutto Vero Sì Sono bravo Statistiche Tutti Livello Altissimo Tranne Junpei Ovviamente Mitsuru E Kurumaru Sono ancora Al 37 Bene 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 Ok Usciamo Dal tartaro Vuoi fermarti Per sta notte Sì Ti prego Chiudiamo Qui per oggi Ok Sono tornato Alla vita Reale Giovedì 20 agosto Accidenti Si muore Di caldo Junpei Eh sì Lo so Non che abbia qualcosa Da fare Pensavo che con dei poteri speciali Il mondo sarebbe stato Meno Noioso Catch Lei fa parte Degli strega Che sta facendo Il disegno Togliti di mezzo Finalmente Parla Mi blocchi la visuale Spostati Se stavi guardando Del disegno Ok C'è solo quei colori strani Cosa vuoi? No Niente Ok Scusa Ma non muore di caldo Con quel vestito assurdo In effetti Si Ci stavo pensando Pure io E chi è quello strano Disegno? Fondo la bellezza Negli occhi Di chi guarda No? Oh well Vabbè Le vacanze estive Stanno per finire Wow E non ho nulla da fare L'arma è rossa Che problemi hai tu? Ok Bunkichi e Mitsuko Qua non vogliono salire Regurma Invece Prossimo al 9 Sì Qua è molto prossimo al 9 Ok Bene Per oggi è tutto Appuntamento al prossimo video Ciao